Le delibere del segretario generale parlano chiaro. Castrataro ha portato le indennità di sindaco e giunta al massimo consentito dalla legge, mettendo fine a quella che era diventata la normalità per Isernia, ovvero il 65% del massimo consentito che da Melogli in poi tutti i sindaci avevano applicato, nel segno del risparmio per le casse comunali. Ora, dopo decenni, Isernia allinea i suoi costi dell'esecutivo ai massimi importi stabiliti dalla legge per i capoluoghi di provincia. Chiaramente c'è un prezzo politico da pagare ed è quello delle contestazioni della minoranza. Il primo a farle è Giovan Carmine Mancini, vicepresidente del Consiglio Comunale, che scrive Fin qui Giovan Carmine Mancini, intanto l'ultimo Consiglio Comunale dell'anno, ha visto anche la nomina dei membri delle commissioni consigliari. Alla prima commissione Cultura e Servizi alla persona vanno Fabio Cefalogli, Angela Perpetua, Marilena Montaquila, Sara Battista, Sara Ferri, Elisabetta Lancellotta, Marco Amendola e Vincenzo Di Luozzo. Alla seconda commissione assetto del territorio vanno Andrea Di Rollo, Stefano Di Rollo, Sergio Sardelli, Claudio Falcione, Elvira Barone, Cesare Pietrangelo, Domenico Chiacchiari e Giovan Carmine Mancini. Alla terza commissione bilancio e programmazione vanno Mino Bottiglieri, Nicolina Delbianco, Gabriele Olivieri, Umberto Di Giacomo, Fabio Toto, Gabriele Melogli, Raimondo Fabrizio e Cosmo Tedeschi. Alla quarta e ultima commissione affari generali e personale vanno Gemma Laurelli, Michele Antenucci, Alessia Panico, Alex Paniccia, Sara Ferri, Linda Dall'Olio, Filomena Calenda e Pietro Paolo di Perna.